In studio, Veronica Puglisi. Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione di MTG. C'è il massimo riservo da parte della procura sull'omicidio di Antonio Andolfi, 20 anni, di Biancavilla, ucciso ieri sera intorno alle 21. I carabinieri che conducono le indagini hanno già fermato un conoscente della vittima. Il movente sarebbe legato a vecchi contrasti sull'uso di Pascoli. Sarebbe stato un conoscente fermato dai carabinieri ad uccidere con colpi di arma da fuoco Antonio Andolfi, 20 anni. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Biancavilla, nel Catanese. Pare che tra i due ci fossero antichi dissapori per dei contrasti sui loro Pascoli. La vittima raggiunta da colpi di arma da fuoco è morta poco prima del suo arrivo in ospedale. Il fermato è indagato per omicidio dalla procura di Catania, che ha chiesto la convalida del provvedimento al GIP. Dalle indagini dei carabinieri, del comando provinciale di Catania e della compagnia di Paternò sono emersi elementi che riconducono il delitto alla sfera personale dei due, escludendo dunque collegamenti con ambienti criminali. Rapina a mano armata e tentato omicidio sono le accuse che hanno portato a due arresti a Catania nell'ambito dell'operazione della questura a tempo rubato. Sono accusati di rapina a mano armata, tentato omicidio, porto e illegale detenzione di armi le due persone arrestate nell'ambito dell'operazione denominata a tempo rubato eseguita dalla polizia di Catania. Si tratta di Antonino Fulvio Amante, 21 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per un altro reato e Gabriele Tosto, di 22. La rapina si è consumata lo scorso 2 luglio nella zona della scogliera. Da una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, uscita da casa con un'auto, è stata subito bloccata dai due soggetti a bordo di uno scooter. L'uomo ha posto resistenza all'azione dei due, riuscendo a togliere la mascherina d'amante, che è armato di pistola, gli ha strappato dal polso sinistro un orologio del valore di circa 40.000 euro e lo ha colpito ferendolo alla gamba. L'uomo ha riportato una prognosi di 15 giorni. Le indagini della polizia si sono concentrate nel quartiere Picanello e hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti alla commissione della rapina e in particolare un sopralluogo preliminare effettuato il 1 luglio da Gabriele Tosto. Determinante ai fini dell'emissione del fermo è stato il rinvenimento ad opera dei falchi della locale squadra mobile nello scooter utilizzato per la rapina e di uno smartphone in forza di una chat risalente alla notte del 2 luglio, nel corso della quale si alludeva in modo esplicito a quanto accaduto. I successivi approfondimenti, con monitoraggi dei social network, hanno inoltre permesso di acquisire ulteriori indizi nei confronti dei due indagati. Rinvenuti e sequestrati, capi di abbigliamento indossati da Gabriele Tosto durante il sopralluogo, due giubbotti antiproiettili e una fondina. I due sono stati condotti nella casa circondariale di Piazza Lanza. I due ragazzi siracusani accusati di violenza sessuale sono stati scarcerati dopo una perizia che è stata depositata dagli avvocati, ma rimangono agli arresti domiciliari. Accusati di avere violentato due studentesse americane a Siracusa la notte del 3 luglio, sono stati scarcerati un 18enne e un 19enne e sottoposti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La misura meno afflittiva è stata decisa dal Tribunale del Riesame di Catania dopo che gli avvocati degli indagati hanno depositato al Tribunale Etneo una relazione del ginecologo secondo cui a seguito dell'ecografia non sono state riscontrate lesioni di alcun tipo. Secondo infatti la difesa, rapporti sessuali sono stati consenzienti. Erano state le due americane in vacanza studio a Siracusa ad avere denunciato alla polizia di essere state stuprate raccontando di essere state adescate da due giovani che a bordo di uno scooter a Ortigia si sono avvicinati mentre loro stavano rientrando a casa dopo una serata in un locale chiedendo in prestito i documenti di identità per acquistare le sigarette al distributore. Dopo una passeggiata, secondo la ricostruzione, le due ragazze sono state separate stuprate in luoghi diversi ma vicini, una in un bel vedere vicino al lungomale d'Ortigia in un luogo all'aperto ma appartato mentre l'altra all'interno di un'abitazione che si trova nelle vicinanze. Secondo l'accusa, il 18enne e il 19enne hanno approfittato dell'ingenuità delle vittime, dell'ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Arrestato dalla polizia in flagranza un 54enne residente a Modica gli agenti sono intervenuti per una richiesta di intervento urgente per l'Item Famiglia raggiunta all'abitazione. Una donna è stata trovata con il volto sanguinante, era stata poco prima aggredita dal marito e in un attimo di distrazione dell'uomo era riuscita a rifugiarsi dentro l'abitazione. La donna ha subito la rottura del setto nasale, emerso che si trattava di una serie costante e ripetuta di maltrattamenti. Gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute dalla 54enne, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Cambiamo argomento al via oggi in tutta Italia, la campagna referendaria per dire no all'autonomia differenziata. banchetti per raccogliere le firme in diverse città, noi siamo stati a Catania. Diciamo no alla legge Calderoli sull'autonomia differenziato, l'affermano i componenti e il comitato referendario per l'abrogazione totale della legge, il comitato che si è costituito qualche giorno fa a Catania e che ha promosso per oggi e domani anche a Catania di Oscirale una raccolta firme contro la legge. Raccolta firme che proprio oggi si sta svolgendo in tutta Italia perché oggi parte in tutto il paese la campagna referendaria contro una legge, dicono i componenti e il comitato, che divide in due l'Italia sul terreno e i diritti essenziali come quella alla salute e all'istruzione, al lavoro e al contratto nazionale e la fa recedere sul terreno e allo sviluppo. Perché bisogna dire no all'autonomia differenziata? Perché è una legge separatista, è una legge iniqua che contro l'Italia una, libera e sola. Meno entrate perché ognuna si deve mantenere con le proprie risorse, meno servizi, quindi meno tutela alla salute, meno scuola, meno trasporti. Di federalismo si parlava da tanti anni mai votato e evidentemente questo governo ha deciso di fare un regalo al nord e di punire come sempre il sud, tanto siamo nel terzo mondo. Una regione che sta bene può soffrire stipendi equiparati alla vita e mi pare anche giusto che si vive per esempio a Milano. Qua non avendo le stesse risorse non possiamo soffrire le stesse opportunità. E quindi i contratti che ci sono a livello nazionale? Ancora di questo non se ne parla perché intanto l'hanno votata alla Carlona, poi si vedrà. Tre settori che potrebbero avere peggiori conseguenze è quello della sanità. La sanità privata è quella che ovviamente verrebbe incentivata con l'autonomia differenziata, la sanità pubblica è quella che ovviamente verrà sempre depotenziata. Per questo noi chiediamo che questa legge venga abrogata. Contro l'autonomia differenziata, una firma per l'Italia è il nome della campagna. Il quesito referendario è stato depositato in Cassazione nei giorni scorsi. Cosa la spaventa l'autonomia differenziata? Penso che qualunque tipo di diversità va gestita diversamente, non in maniera, come dire, normativa, che poi non lascerebbe spazio. La bellezza dello stretto patrimonio dell'umanità è il tema della conferenza stampa di questa mattina a Messina, Torre Faro, nella zona oggetto degli espropi per la realizzazione dell'imponente infrastruttura. Legambiente, insieme al Comitato Promotore, ha rilanciato la candidatura dell'area dello stretto di Messina a patrimonio dell'umanità riconosciuta dall'UNESCO. Salviamo la bellezza dello stretto di Messina a patrimonio dell'umanità. L'obiettivo è proprio l'inserimento dell'area dello stretto di Messina nella cosiddetta Tentative List, la lista che depositano i governi dei paesi aderenti all'UNESCO, da cui attingono per avanzare la candidatura. Il primo step, la conferenza stampa indetta stamattina da Legambiente, coletta verde dai comitati che si sono schierati contro la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina a Punta Faro, uno delle zone più suggestive, oggetti di spropri da parte del Governo nazionale per la realizzazione dell'imponente opera. È un'area di un'importanza incredibile con zone speciali di conservazioni, con zone di protezione speciale, di grande interesse naturalistico, geologico, mitologico, culturale. Sono queste le vere risorse su cui puntare per rilanciare un'economia basata sull'egalità e sulla cultura. In occasione della tappa conclusiva di Goletta verde in Sicilia, lega ambiente il Comitato Promotore hanno ribadito la bellezza e l'unicità paesaggistica, geologica e geomorfologica dell'aria, lanciando anche un appello al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Cultura cui spetta l'ultima parola nel leader della World Heritage List dell'UNESCO, affinché ascolti e prendono in considerazione l'istanza che arriva dai territori. Lo stretto di Messina, Scille e Cariddi, Colapesce, la pesca del pesce spada, questo luogo racchiude e raccoglie tantissima bellezza. Ecco perché invece di fare il ponte noi pensiamo che questo luogo deve diventare patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO e da oggi solleciteremo ancora di più il Governo nazionale a che finché lo stretto inizi questo percorso. Non potevamo chiudere la settima tappa della Goletta verde qui in Sicilia senza ribadire il nostro no al ponte sullo stretto, a un'opera così folle, a un'opera che devasterà un territorio e che disunirà invece che unire. Oggi Goletta verde è tornata a ribadire anche il suono al ponte ritenendo non opere inutile dal forte impatto paesaggistico e ambientale e dal conto ossalato. Per l'associazione ambientalista le opere prioritarie da realizzare sono altre. A preoccupare sono i ritardi infrastrutturali con collegamenti lenti e precari sia su strada che su rotaie. Siamo qui davanti allo stretto con la Goletta verde per ribadire il nostro sia alle grandi opere ma quelle utili alle persone, all'ambiente, il raddoppio dei binari per i pendolari, l'aumento delle corse per le persone che viaggiano dentro le regioni del sud Italia che sono indietro rispetto allo standard europeo e nazionale. Sabotaggi nella discarica di Bellolampo a Palermo a due giorni dall'arrivo della Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti sarebbero stati allentati i perni, manomessi componenti elettrici, dati colpi di martello, di pala al trituratore. La notizia ha creato allarme in azienda anche perché in vista della visita della Commissione si sta lavorando alacremente per risolvere problemi creati e riuscire a far ripartire il trito vagliatore e a bancare i rifiuti in discarica. Fiaccolata ieri sera a Palermo per commemorare il 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Ad aprire la fiaccolata da piazza Vittorio Veneto fino a Via Mariano D'Amelio luogo della strage a Palermo la celebre frase di Paolo Borsellino mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia la mafia non si vendica forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri. Palermo si è immobilitata per partecipare alle corti antimafia e in ricordo dei giudici uccisi da Cosa Nostra nell'ambito del 32esimo anniversario delle stragi in particolare ieri è stata commemorata quella di Via D'Amelio in testa Arianna Meloni sorella della Premier responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia con la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo il ministro dello sport Andrea Bodi il sottosegretario di Stato alla giustizia Andrea Del Mastro delle vedove e parlamentare di Fratelli d'Italia Raul Russo e Giovanni Donzelli per il 28esimo anno consecutivo i movimenti della giovane destra palermitana hanno promosso insieme al forum 19 luglio la tradizionale fiaccolata in memoria di Paolo Bosselino e degli agenti della scorta a ideare questa manifestazione furono il fronte della gioventù e il fuam di Palermo nel 1996 i giovani hanno puntato il focus sul pericoloso uso della droga la droga è stato ribadito durante il corteo ha un duplice aspetto è mafia perché le cosche si arricchiscono senza scrupoli distruggendo la vita di giovani e famiglie ed è morte perché questo è l'epilogo di una lunga dipendenza non esistono droghe buone fu proprio Borsellino in vita a scagliarsi contro qualsiasi ipotesi di legalizzazione della droga il governo Meloni fin dal suo insegnamento ha dichiarato a Lanza il parlamentare Donzelli ha fatto della lotta alla mafia uno dei punti principali del suo programma a partire dalla conferma del carcere stativo e del 41 bis il carcere duro continuiamo a fare battaglia per la legalità come dimostra il caso Caevano questa è una fiaccolata per ricordare Paolo Borsellino non è una passarella non ci sono simboli di partito si chiama operazione digital nexus quella eseguita dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha disposto il sequestro di due compendi societari e di beni per un valore di quasi un milione di euro bancarotta fraudolenta bancarotta documentale autoriciclaggio sono i reati di cui deve rispondere un imprenditore raggiunto da misure cautelari eseguite dalla guardia di finanza di Catania dopo le indagini sul dissesto di una società catanese operante nel settore della produzione di software raggiunta da sentenza di fallimento del locale tribunale nel 2020 secondo le indagini delle fiamme gialle l'amministratore dell'impresa avrebbe eseguito una serie di operazioni distrattive e dissipative del patrimonio azientale in una fase in cui si stavano accumulando ingenti debiti erariali e perdite di rilevante entità in primo luogo l'indagato mediante operazioni di conferimento di rami d'azienda avrebbe trasferito i principali asset societari a favore di due realtà imprenditoriali neocostituite in forma di società in accomandita semplice le relative quote sarebbero state detenute dall'indagato per l'80% e dalla stessa impresa conferente in rami d'azienda per la parte residua del 20% queste operazioni avrebbero causato il decremento del patrimonio della fallenda per un valore di 815 mila euro a fronte di una partecipazione al capitale nella quota minimale di 10 mila euro per singola società successivamente le quote possedute dalla società in fallimento sarebbero state cedute a un familiare dell'amministratore di quest'ultima così da rescindere definitivamente in via formale i legami tra l'impresa poi fallita danneggiata dalle operazioni distrattive e le due new company nonché dissimulare la provenienza delittuosa dei rami d'azienda precedentemente distratti in questo modo l'indagato sarebbe riuscito a remettere nel circuito economico legale i rami d'azienda distratti di provenienza criminosa rendendosi responsabile del reato di autoriciclaggio inoltre sarebbe stata riscontrata l'erogazione da parte della società in dissesto nei confronti delle nuove imprese mai restituiti per un importo complessivo di 110 mila euro tutte operazioni avrebbero determinato un aggravamento del dissesto fino a un patrimonio netto negativo di oltre 4 milioni e mezzo la guardia di finanza ha dunque sequestrato preventivamente compendi aziendali delle due new company denaro beni e altre utilità per un importo complessivo di 925 mila euro attività regolare negli aeroporti dopo il bug informatico che ieri ha messo K.O. il sistema mondiale ma si può ottenere un rimborso per chi ha avuto i voli cancellati o con molto ritardo lo abbiamo chiesto a Feder Consumatori tornata la normalità le compagnie le compagnie non hanno colpa le compagnie dovevano solo avvisare e se hanno avvisato contro di loro si può fare poco ciò non di meno ci spiegano da Feder Consumatori serve comunque farla una denuncia magari in autotutela per capire come si evolverà questa situazione è stato tutto regolare orario e siamo arrivati anche prima dell'orario previsto avete avuto problemi con il bug informatico le compagnie vi hanno avvisato? ovviamente no perché stiamo partendo in questo istante quindi ancora non sappiamo come si mette la cosa quindi ieri non mi hanno informato in maniera mi hanno informato tramite l'agenzia dicendoci che stamattina probabilmente poteva esserci qualcosa nel pomeriggio di ieri però ci hanno avvertito che la cosa si era sistemata quindi si dovrebbe partire in maniera regolare spero proprio di sì il disagio che hanno avuto le compagnie aeree lo hanno subito di conseguenza per caduta anche i viaggiatori di conseguenza la situazione non è semplice per riuscire a trovare chi andare a contattare per eventuali riclami e ristori contattate comunque le associazioni di consumatori per comprendere quali possono essere uno i motivi del disagio due le responsabilità a cui fare riferimento e per chi dovrebbe essere il responsabile di tutta la vicenda è indubbio che le compagnie aeree dovrebbero aver dato adeguata informazione tramite email o sms ai viaggiatori che hanno dovuto subire ritardi o cancellazioni di volo e nei casi di specie poi poter anche avviare la richiesta dei ristori per i ritardi o la cancellazione di voli e tanti gli utenti che ieri hanno avuto disagi a causa del bug informatico abbiamo raccolto la testimonianza di Maurizio a Catania più di 30 i voli tra arrivi e partenze cancellati 0 a Comiso 16 voli in arrivo all'aeroporto di Catania cancellati e 20 con ritardi di oltre 2 ore 17 in partenza Catania cancellati e 30 in ritardo sempre oltre le 2 ore sono alcuni dei numeri delle giornate di passione che hanno dovuto vivere i passeggeri di tutto il mondo a causa del bug informatico che ieri ha di fatto mandato in blackout i computer di moltissimi aeroporti nazionali e internazionali a Comiso un solo volo in partenza ha avuto ritardo di oltre 2 ore ma nessun volo in partenza né in arrivo a raccontarci la sua personale disavventura è il signor Maurizio mi sono collegato al sito di ITA e ho scoperto che c'era il problema e il sito di ITA invitava a verificare se il proprio volo sarebbe stato confermato oppure no ho messo il numero del volo ed il volo a quel punto risultava cancellato solo che da quel momento in poi era assolutamente impossibile capire quali conseguenze poterne trarre poi a un certo punto è arrivato un SMS cliccando il quale però si veniva dirottati non su una pagina specifica ma su una pagina generica quindi nei fatti per buone 2-3 ore è stato totalmente impossibile qualunque tipo di contatto con la compagnia compreso il call center dove si rimaneva in attesa comprensibilmente perché capisco che hanno avuto migliaia di chiamate però anche per la strada che praticamente veniva suggerita come la migliore nei fatti era impossibile ho disdetto gli appuntamenti che avevo e in autonomia con un buon fai da te ho prenotato per domenica a un certo punto è arrivata notizia che potevo essere riprotetto su un altro volo poi oltretutto mi è arrivata notizia in ogni caso con sms che quel volo sul quale sarei stato riprotetto aveva un ulteriore ritardo e quindi praticamente è proprio impossibile gestire la cosa l'informazione continua subito dopo una breve pausa pubblicitaria tra poco seconda ultima parte del nostro telegiornale in sala d'aspetto a soffrire il caldo senza aria condizionata nel reparto di pneumologia del policlinico di Catania la denuncia arriva da un utente dieci ore in sala d'attesa aspettando l'esito dell'intervento a cui si stava sottoponendo mia mamma una sala d'attesa senza aria condizionata a raccontarlo è un utente Carmelo che ieri si trovava nella sala d'aspetto del reparto di pneumologia del policlinico di Catania lui insieme a tante altre persone impossibile resistere ci dice Carmelo soprattutto per le persone anziane persone anziane anche che devono informazioni perché ovviamente chi va in ospedale ha necessità di avere informazioni e supporto anche perché si sente male o ha qualche patologia questa avventura è stata un'avventura non molto piacevole vi hanno detto perché non funzionava l'aria vi siete in qualche modo lamentati? sì ci siamo lamentati del fatto che l'aria era guasta non sapevano che c'era questo guasto e non è stato fatto nulla perché da più giorni quest'aria condizionata non funziona ci sono problemi come ci sono problemi in altri luoghi di lavoro però quando ci sono queste situazioni si deve venire in maniera celere perché paghiamo un servizio e il servizio deve funzionare ci auspichiamo che non avvenga più che questa segnalazione dia il suo frutto e che tantissimi altri pazienti possono essere accolti perché ripeto chi va in questi luoghi ha necessità di avere anche un minico di cuore da parte di chi sta servendo questo servizio abbiamo provato a contattare l'azienda ospedaliera universitaria ma non abbiamo avuto risposta verificheremo che la situazione venga al più presto sistemata in occasione del 159esimo anniversario della guardia costiera siamo saliti a bordo di un loro mezzo per mostrare alcune delle attività che giornalmente svolgono a tutela del mare e di chi ne fruisce salvaguardia e la vita umana in mare la sicurezza e la navigazione del trasporto marittimo la tutela dell'ambiente marino dei suoi ecosistemi e l'attività di vigilanza e l'intera filiera della pesca marittima dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale a queste ultime si aggiungono le ispezioni sul naviglio nazionale mercantile da pesca e da di porto condotta anche sulle navi mercantili estere che sostano i porti nazionali sono questi i principali compiti della guardia costiera capitaneria di porto che oggi celebra 159 anni in occasione di questo importante anniversario siamo saliti a bordo di un mezzo e insieme agli uomini e alla guardia costiera di catania abbiamo navigato nella costa etnea osservando da vicino il lavoro che quotidianamente viene compiuto tante le attività come mare sicuro che ogni state viene attuata i numeri che possiamo dare dal 15 giugno a oggi sono stati fatti 12 soccorsi e salvati 44 bagnanti tra bagnanti e diportisti principalmente unità rimaste in panne quindi quello che raccomandiamo è sempre verificare che si abbiano a bordo sia il carburante sufficiente affrontare la navigazione che tutti quelli che sono gli strumenti utili poi affrontare le eventuali difficoltà il numero di soccorso che è sempre il 1530 o il numero unico d'emergenza è il 112 a cui risponde la guardia costiera 24 ore su 24 7 giorni su 7 a proposito di balneazione sicura spesso i tratti al nostro mare li vediamo sporchi ci sono diversi scarichi voi controllate anche questo assolutamente sì la guardia costiera ha l'attenzione anche sull'ambiente e viene fatta un'attività di monitoraggio ambientale anche grazie al nucleo subacquei di Messina con cui vengono fatte attività mensili per monitorare il nostro mare monitorare quelli che sono gli scarichi abusivi e cercare di limitare e riportare nell'alvio della legalità tutto questo la guardia costiera da sempre garantisce la sicurezza la salvaguardia della vita umana in mare c'è anche il controllo non solo in mare aperto ma anche nei piccoli porti che diventa fondamentale anche per capire che si rispettino le regole lì come si esce come si entra ma anche lì rispetto della salubrità delle acque assolutamente sì in quello da cui siamo usciti appunto è un piccolo porto quello di Ognina è fondamentale risulta essere soprattutto la velocità con cui si entra e si esce dal porto perché proprio quella può essere fuoriera di danni che poi vengono causati sia alle persone ma anche alle unità che sono lì ormeggiate che la guardia costiera lavora in mare ma lavora a terra con più di 45 mezzi navali in tutta la direzione marittima e più di 100 militari ogni giorno distribuiti nei 650 km di costa Una motovedetta della guardia costiera ha intercettato un'imbarcazione a circa 50 miglia da Pozzallo con 28 migranti a bordo sono tutti uomini provenienti da Bangladesh Egitto e Siria sono arrivati intorno alle 6.45 sulla banchina del Porto Ebleo dove sono stati foto segnalati e condotti nello spot i migranti sono in buone condizioni di salute Oltre 12 milioni di euro di avanzo di amministrazione saranno utilizzati dal libero consorzio comunale di Ragusa per opere pubbliche sul territorio provinciale le opere sono state concordate singolarmente con tutti i sindaci dei 12 comuni blei la variazione di bilancio di previsione 2024-2026 proposta dalla commissaria straordinaria dell'ex provincia Patrizia Valenti è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio i dettagli delle opere che saranno realizzati nella rubrica eventi subito dopo questa edizione di MTG e con questo è tutto il nostro telegiornale termina qui grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata su video mediterraneo grazie a tutti grazie a tutti